Tornano inesorabili i numeri della tredicesima giornata di campionato. La Lega Pro porta sempre curiosità legate agli ultimi 90 minuti. Come la Juve Stabia, la capolista al primo pareggio interno del campionato. Le vespe restano al comando della classifica ma hanno perso il 100% delle vittorie tra le mura amiche. Picerno da Sbalo, la scuola di Emilio Longo, strapazza nel primo tempo il potenza nel derby lucano e segna a Raffica. 23 gol fatti, migliore attacco e scavalcato il rendimento offensivo dell'Avellino. Murano ha segnato 12 gol in 13 partite. Casertana, team da trasferta e Falchetti sono la squadra che ha ottenuto più punti dall'inizio del campionato, lontano dal Pinto. Con l'ultimo colpo in casa della Virtus Franca Villa sono 15 punti ottenuti da Falchetti di Cangerosi. Inoltre, il rosso-blu di terra di lavoro non hanno mai perso lontano dalla città di Caserta. Profondo rosso Turris, non solo per il colore della maglia, la scuola di Caneo e al quinto stop consecutivo. Peggio, aveva fatto soltanto la Virtus Franca Villa che spezzò la crisi al partene Lombardi. I Corralini sono stati risucchiati adesso in zona play-out. In quattro sono il peggior attacco del campionato. Tra tutte sorprende il Catania, che ha 9, era i vari di Carmine e Chiricò. Poi a fare compagnia agli Etnei con 11 centri siglati, in 13 partite ci sono il Brindisi di Danucci, il Giuliano di Bertotto e il Foggia di Cudini.